Eccoci tornati per la seconda parte di AC News, è tornato a trovarci per parlare dell'Arezzo e delle sue vicende il direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Ciao Elettra, buongiorno a tutti. Buongiorno, e allora partiamo proprio dall'attualità, partiamo dalla rassegna stampa, da quello che è uscito oggi su una testata a retina. Una testata a retina intende il Corriere d'Arezzo? Il Corriere d'Arezzo, esattamente. Alla fine non è uscito un granché di nuovo, stavolta magari si fanno dei nomi in più, ma la sostanza è quella che si sa da tempo, cioè Giorgio Lacava aveva da tempo annunciato che avrebbe voluto vendere il 20-25% delle proprie quote, mantenendo la maggioranza. Questo possibilmente ad aretini o persone che lui considera aretine, non l'ho detta a caso questa cosa, e diciamo ad un prezzo di favore, dice lui, che è quello sostanzialmente che ha speso. Quindi, tutto sommato non ci vedo niente di straordinario. Certo, stavolta si fanno nomi di persone che trattano, per esempio che non erano usciti prima, di persone che acquistano, insomma, le quali negano, ma non negano granché il fatto che questa cosa esista. Ma sì, forse esiste, vabbè, se uno dice, sento che qualcosa si muove, è segno che qualcosa sta facendo. Esattamente. Con ciò non c'è niente di male, anzi, se si rafforza la società, ben venga. Assolutamente sì, anche perché l'Arezzo in questo momento, forse anche un po' dopo il rammarico dell'altro giorno della partita contro la Propatria, ha bisogno anche forse di belle notizie. Mister Dalcanto dice un punto guadagnato, però c'è chi sostiene che invece siano due punti persi, come quelli sostanzialmente contro il Novara e la Carrarese. In realtà, però, in quel caso è di peso più da noi, in questo caso invece è di peso delle circostanze, dagli eventi, che hanno guidato la partita in una direzione. Dalcanto lo dice, ovviamente, lo ha detto alla fine della partita, quando era rammaricato abbondantemente, ma comunque voleva dire che di solito partite che si mettono in questo modo, va a finire che si perdono. E quindi averla pareggiata c'ha un successo. Certo, gli episodi che sono andati in direzione contraria, opposta a quella dell'Arezzo, sono tanti. Tutti nel secondo tempo e tanti. Nel senso che, diciamo che aver avuto l'espulsione di Basit, che a termini di regolamento era anche giusta, nel senso che i due gialli ci potevano stare, certamente il secondo poteva evitarlo sia Basit come fallo, sia l'arbitro che aveva dato il primo e sapeva bene che il secondo l'avrebbe tolto dal campo dopo otto minuti del secondo tempo. Nessuno dei due ha evitato di fare un errore e quindi Basit è uscito. L'espulsione di Basit ha condizionato il secondo tempo, nel quale mi sento di dire che a 11 contro 11 non ci sarebbe stato problema per gestirlo da parte di Arezzo. Invece, rimanere in 10, prendere un gol come quello che abbiamo preso, ed ecco l'errore nostro in questo caso, anche quello di Basit è nostro, quello di Pelagotti, che è stata una papera vera e anche piuttosto importante, prendere un gol, quindi il pareggio, quando sei in 10, poi un rigore contro, che forse c'è o non c'è, ecco in quel momento era una situazione veramente brutta. Tutti abbiamo pensato che quel rigore sarebbe stata la sconfitta per l'Arezzo. Invece il rigore l'hanno sbagliato, e questo è l'unico episodio positivo di una partita. Il rigore non concesso all'Arezzo, lì c'era quel rigore. No, infatti non ho finito, ero arrivato al rigore della Propatria, che hanno sbagliato. L'errore di quel rigore ha fatto sì che l'Arezzo riprendesse un po' di carica, non è andata sotto, e quindi ha provato ancora a vincere. Nonostante che il fiato piano piano calasse, la squadra si allungasse invece di essere compressa in pochi metri. La Propatria ha arretrato perché invece calava fisicamente, nonostante fosse con un uomo in più, figuriamoci se fossero stati 11 contro 11. Tanto la riprova non c'è, quindi è inutile anche dirlo. Però di fatto la Propatria è calata, l'Arezzo è salita, e nel finale l'Arezzo avrebbe potuto e dovuto vincerla quella partita. Nel senso che se fosse dipeso dall'Arezzo la partita sarebbe finita 2-1. Qui non possiamo neanche recriminare più di tanto nei confronti della squadra. Il rigore su Zini era rigore solare. Ho visto le riprese più volte, l'ho vista soprattutto dalla curva, cosa che non si vede negli highlights di LM Sport. E dalla curva si vede benissimo come stavano le cose, che era fallo, ma grosso, non piccolo, da rigore. Che l'arbitro era 5-6 metri indietro e l'ha visto perfettamente, non ha avuto coraggio di darlo. Eravamo al novantesimo, un arbitro esordiente. Altra cosa che non mi è piaciuta è che si mandi un arbitro esordiente ad arbitrare la prima classifica. Non si è mai fatto, non dico che ci voglia riguardo, come ha detto qualcuno durante la partita. Non è giusto, ma almeno avere un arbitro di qualità, non dico che questo non possa diventarlo. Al momento però ha dimostrato la sua inesperienza. Poi per finire abbiamo anche sbagliato un gol noi con Bruschi, molto, molto allettante. In realtà Bruschi non ha sbagliato, perché la palla era a mezza altezza, lui l'ha presa bene di collo, l'ha buttata in un spettio della porta. È quello che avrebbe fatto chiunque. Purtroppo c'era un uomo lì disegnato sulla linea che gli ha sbattuto addosso la palla, che ha fatto niente di speciale, gli ha battuto addosso e non abbiamo segnato. Quindi questi due episodi, diciamo finali, hanno ancora di più fatto in modo che Arezzo non vincesse. Ecco perché alla fine di tutto questo bailam dal canto ha detto ma è un punto guadagnato, va, lasciamo perdere. Qui se quel rigore lo facevano era difficile, veramente psicologicamente andavi a terra, era difficile recuperare seriamente. Poi l'espulsione ha cambiato l'Arezzo, ha cambiato modulo, ha cambiato i giocatori, ha tirato fuori due tra i migliori giocatori che ha come Brunori e Serrotti. Quindi naturalmente tutto è diventato più difficile e comunque ci avremmo fatto lo stesso. Pensa alla differenza che c'è fra le due squadre. Dispiace aver pareggiato contro una squadra inferiore. Bene direttore, il nostro tempo a disposizione purtroppo è finito. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e ci vediamo tra poco per la terza ed ultima parte di AC News.